Cinque film da vedere come Arrival e Interstellar. In questo video vi consiglieremo cinque film, anzi quattro film più una serie tv, di genere fantascientifico perché in tanti ci avete chiesto nei commenti che film posso vedermi, sono un appassionato di Interstellar, ho visto Arrival. Ecco, abbiamo deciso di mettere insieme cinque titoli, magari alcuni li avrete già visti ma potete riguardarli, più qualche chicca che non viene consigliata quasi mai. Partiamo subito dal presupposto che se non avete visto né Arrival né Interstellar, li trovate entrambi su Netflix, vi consiglio di recuperarli, sono forse i più bei film di fantascienza degli ultimi dieci anni, Arrival si concentra molto di più sulla comunicazione, arrivano queste navicelle aliene sulla Terra, arrivano dodici astronavi sulla Terra e una linguista interpretata da Amy Adams deve capire cosa vogliono dagli esseri umani e aiutare il governo a cercare di decifrare il messaggio in codice con cui comunicano questi esseri venuti dallo spazio. Interstellar, film di Christopher Nolan del 2014, parla di una terra stretta nella morsa dei cambiamenti climatici devastata, una missione interstellare punta a cercare un altro pianeta abitabile passando attraverso un wormhole. Vi abbiamo già parlato nella classifica dei migliori film di Christopher Nolan e vi consiglio di recuperarlo perché è veramente un filmone. Film come questi non ce ne sono tanti, diciamolo subito. Quelli che ho selezionato si avvicinano e sono anche film usciti anche prima di Interstellar e di Arrival ma che comunque per gli appassionati del genere fantascienza possono essere bei film da riguardare o da vedere per la prima volta se ancora non l'avete fatto. Partiamo subito con il primo, Sunshine, il primo film che vi consiglio, è un film che non trovate gratuitamente sulle piattaforme in streaming ma lo potete noleggiare su Amazon Prime Video a 3,99€ o su YouTube o su Apple TV. Si intitola Sunshine di Danny Boyle del 2007, c'è un cast della Madonna come piace dire a me perché ci sono tutti attori che poi li riconoscerete che negli anni sono diventati famosi, Cillian Murphy di Piggy Blinders, Chris Evans ma anche Michelle Yeo che ha vinto l'Oscar quest'anno, tantissimi attori, li ritroverete, li ritroverete anche un attore di Lost. In questo film che parla di una missione in un futuro dove il sole si sta per spegnere, quindi sta per mettere a repentaglio la vita sulla Terra, una missione spaziale deve lanciare una bomba termonucleare sul sole per riaccenderlo. È un film fatto davvero bene, ci sono anche dei momenti thriller, dei momenti di tensione, dei momenti in cui l'equipaggio deve sopravvivere anche perché più ci si avvicinerà al sole e più queste persone avranno gli effetti su di loro psicologici e fisici per contrastare questa vicinanza alla nostra stella. Forse il primo film se non l'unico che parla di una missione verso il sole, altri film parlano di missioni verso altri pianeti, per alcuni e anche meglio di Interstellar, personalmente l'ho apprezzato anche se per me Interstellar e Arrival sono ai primi posti nei film di fantascienza della storia, tolto insomma 2001 di Cisare nello spazio e i grandi classici di fantascienza degli anni 60, 70 e 80. Il secondo film che vi consiglio si intitola Annientamento e qui lo trovate su Netflix. È interpretato da Natalie Portman e Oscar Isaac parla di questa biologa che insomma ha perso il marito, era partito per una spedizione, faceva parte di uno dei corpi speciali ed era partito per una spedizione segreta e non era più tornato. Lei non accetta la morte del marito, a un certo punto Lena, la protagonista del film, si sente bussare alla porta ed è Kane, proprio il marito Oscar Isaac, tornato ma è molto strano, sta male, parla a fatica e viene ricoverato in ospedale. Ed era stato in questa zona soprannominata zona X, che era stata diciamo messa in quarantena questa zona perché in un'area della Florida era apparso un bagliore nel cielo e poi questa zona era stata contaminata e lei, la moglie, dopo il ritorno del marito, parte alla volta in avanscoperta per capire che cosa è successo alla volta di questa zona X insieme ad altre donne. È un bel film fatto bene, anche perché all'interno di questa zona X succederà qualunque cosa e la realtà, la percezione della realtà sarà totalmente diversa rispetto a quella che la protagonista si sarebbe mai aspettata. Non vi spoilerò il finale, lo trovate su Netflix, annientamento, dura due ore. Il terzo film che vi consiglio oggi, occhio perché lo stanno per togliere sempre da Netflix, è Dune, la prima parte di Dune, straordinario. Villeneuve ha voluto rifare Dune dopo che nell'84 già era stato fatto un adattamento cinematografico del libro di Frank Herbert, che però non era andato benissimo, era stato molto criticato il Dune dell'84. In questo caso Villeneuve fa un grandissimo lavoro, a mia impressione. Uscirà la seconda parte di Dune quest'anno che chiuderà la storia e i protagonisti, come sapete, sono Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, abbiamo visto in questo primo film, e è fatto molto bene sia dal punto di vista della fotografia, del sonoro, anche perché Villeneuve è lo stesso regista di Arrival, sottolineiamo questa cosa, si vede la sua mano anche in Dune, ecco perché vi consiglio di rivedere Dune, vedetelo con le cuffie, ecco quello che vi consiglio è guardatelo con le cuffie alle orecchie, per assaporarne sia le musiche che il sonoro, ed è un bellissimo film che trovate ancora per poco su Netflix, è proprio lo stesso Netflix che mi avvertiva che stanno per toglierlo dal catalogo. Passiamo un attimo su Disney+, dove trovate The Martian, sopravvissuto, film con Matt Damon, sicuramente l'avrete visto, ma ve lo consiglio perché per gli appassionati di Interstellar, secondo me, è uno dei film più verosimili alla scienza. È un film che parla, è tratto da un libro molto bello, che parla di questo astronauta, che mentre si trova in una missione su Marte, insieme agli altri suoi compagni, accade una tormenta di sabbia, l'equipaggio è costretto ad abbandonare la missione, quindi a tornare di corsa sulla Terra, ma succede qualcosa che impedisce al protagonista di rientrare sul razzo, sull'astronave, e di tornare sulla Terra, rimane su Marte da solo. Cosa fareste se vi trovaste da soli su Marte? Come sopravvivreste? Ecco, queste domande, insomma, il film cerca di rispondere a queste domande, e insomma, leggevo che tutto quello che accade al protagonista sono tutte cose che verosimilmente possono essere fatte per la sopravvivenza su Marte, e c'è moltissima scienza in questo film, anche il cast, oltre a Matt Damon, c'è Jessica Chastain e tantissimi altri attori molto bravi, per un film di Ridley Scott, insomma, bellissimo, che trovate, ricordiamo, su Disney+, The Martian sopravvissuto, leggete anche L'Uomo di Marte, che è il libro da cui è tratto il film, che è ancora più bello, come al solito. Chiudiamo, chiudiamo la nostra carrellata di consigli con una serie, una serie, faccio subito una premessa, ci spostiamo di nuovo su Netflix, è una serie che purtroppo hanno stoppato, e cioè che hanno interrotto dopo la seconda stagione, alla fine della seconda stagione, quindi trovate purtroppo solo due stagioni. Ma è una serie fatta talmente bene, l'idea era talmente buona, originale se vogliamo, e anche verosimile, che mi è dispiaciuto parecchio che sia passata un po' sotto traccia, un po' inosservata. È una sorta di Interstellar fatta a serie, ma anche una sorta di Don't Look Up, il film che uscì l'anno scorso su Netflix, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, che parlava di questo asteroide in rotta di collisione con la Terra. La serie si chiama Salvation, la trovate su Netflix, sono due stagioni e parla dello stesso problema di Don't Look Up. C'è un asteroide che sta per entrare in rotta di collisione con la Terra, e gli umani hanno a disposizione solo sei mesi per impedire una catastrofe. Un miliardario, che si chiama Tanz, ha una soluzione per salvare gli esseri umani, e devo dire che è fatta molto bene la serie, tant'è che si arriva ad un colpo di scena finale, che sarebbe stato bello, insomma, che lascia aperto poi questo finale all'interpretazione di chi lo guarda. Sarebbe stato ancora più bello vedere il seguito, insomma, il destino di questi esseri umani. Ce la faranno a lasciare la Terra e a difendersi dall'arrivo di questo asteroide. Fatta benissimo, Salvation purtroppo per una questione di budget, temo, insomma, i soliti motivi che impongono la produzione di fermare una serie, è stata cancellata. Però, se la volete rivedere, secondo me è una delle migliori serie TV sci-fi di fantascienza che trovate sempre su Netflix. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi titoli, e scrivetemene altri nei commenti. consigliateci film e serie TV di fantascienza da vedere che assomigliano ad Arrival e Interstellar. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i prossimi video che facciamo ogni giorno su Ciaccheazione. Mettete mi piace a questo video, sosteneteci, seguiteci su Facebook e Instagram. Io vi do appuntamento al prossimo video.